Anna Furia nasce a Napoli nel 1991. Nel 1995 studia danza classica moderna e contemporanea. Si diploma nel 2010. Nello stesso anno prende parte del musical c'è una volta scomizzi. Nel 2010-2011 fa parte del cast artistico del Aqualand con la direzione di Alex Rocassi. Nel 2011-2012 entra nel cast del musical Aladdin. Nel 2012-2013 fa parte del cast Come Volo e Ensemble del musical Life per Sabato Sera. Nel 2013-2014 entra nel cast del parco divertimenti Gardaland. Nel 2014-2015 prende parte del programma televisivo La Pista su Rai 1. Nel 2015 fa parte del cast La Divina Commedia e i Veromessi Sposta, diretti da Maurizio Colombo. Nel 2016 fa parte del cast del musical gris della Compagnia Arancia nel ruolo di Cia-Cia del Regone. Nel 2017-2018 è Stefani Margot protagonista della Febbre Sabato Sera. Nel 2018 prende parte allo spettacolo fondamentalmente show e comico Simone Schettino. e entrava a parte del musical Life is Musical, diretto da Sergio da Ferri. Ora è in tour con Dirty Dance nel ruolo di Elisabeth. Oggi è il suo compleanno e noi li vedremo di interno. Le vogliamo fare tanti auguri al compleanno e un grandissimo augurio per il suo torno. Tanti auguri a me. Tanti auguri al compleanno e un grande ruolo di Cia-Cia-Cia-Cia-Cia-Cia. PAPELONIA Scassamo tutti i sedzi, scassamo tutti i lastri Rimacchano buono, vanno un palamme d'assi Arroppo sull'isteria, vanno i suoi spizzi Appicciano un baranzo, un nuovo balanzo e giustizia Scassamo Babilonia E' guarda Babilonia E' guarda Babilonia E' guarda Babilonia E' guarda Babilonia E guard Babilonia E guard Babilonia E guard Babilonia